Ok, partiamo con questa seconda puntata, seconda puntata della seconda serie e appunto l'altra volta siamo ancora un po' interlocutori, voglio ancora prenderla più o meno alla lontana, entreremo nel vero sviluppo la prossima settimana, oggi e domani ancora ci pigliamo due giorni così per riflettere sulle questioni, sul problema scientifico, le domande, poi ci daremo delle risposte, ma se non abbiamo delle buone domande le risposte non ci soddisferanno mai o comunque non le troveremo. Allora, la scorsa volta, aspetta fatemi solo controllare che stia registrando, sì sto registrando, adesso devo rifare tutto ma va bene lo stesso, la scorsa volta abbiamo visto diciamo così due processi graduali, giusto? Abbiamo riflettuto di due processi graduali, uno era la perdita di potenziale, ho appena iniziato, non vi preoccupate, uno era la perdita di potenziale e l'abbiamo visto graduale, espresso con quella curva probabilistica, ci ragioneremo, fatta col nuclear transfer, però c'era questo potenziale che si perdeva, andava giù e poi abbiamo visto invece un altro processo graduale, che abbiamo anche provato così a definire con qualche tappa fondamentale, che invece andava nel verso opposto, che aumentava ed era il progressivo acquisire di un commitment, di un fenotipo, di un'identità, ok? Perché l'identità cellulare, noi abbiamo presente l'eritrocita, però per arrivare anche lungo lo sviluppo, lungo un lineaggio, attraverso le generazioni di cellule questa identità si forma ed è un processo graduale, giusto? E quindi abbiamo visto la perdita di potenziale e l'acquisizione di un fenotipo come due processi, sembra un balletto, lo faremo, sono due processi che vanno in direzioni opposte, ma chiaramente sono legati tra loro. Perdiamo potenziale man mano che acquisiamo un'identità. Allora per cercare di schematizzarlo questa coppia di eventi, perdita di potenziale e acquisizione del fenotipo, probabilmente la metafora più evocativa prodotta dai biologi dello sviluppo è quella studiata negli anni 50, quindi un bel po' di tempo fa, ma ancora torno, riusciamo a scrollarcela, anzi gli vogliamo bene, a questo epigenetic landscape, questo è questa biglia che rotola, non so se l'avete già vista, studiata dal professor Waddington. E che cosa ci schematizza questo schema? C'è una biglia, una cellula in una situazione di instabilità, la metafora ovviamente è di tipo gravitazionale, quindi noi utilizziamo un'energia potenziale gravitazionale per parlare di potenziale di fenotipo, fenotipic potential, cell fate potential. Però la prendiamo in modo gravitazionale, c'è una situazione di instabilità e questa situazione di instabilità tende per natura, per una forza che è intrinseca, che è lì, che pervade tutto, che è ovunque, che è proprio intrinseca, è dentro, questa biglia tende a scivolare lungo quello che viene chiamato epigenetic landscape, cioè il panorama epigenetico delle scelte cellulari. Quindi ci sarà una forza che la fa andare verso il differenziamento e questa urgenza di differenziare la vedremo, la studieremo, cercheremo di capirlo, è chiaro che non è gravitazionale, dovremo capire quali sono le forze in gioco, questa metafora l'abbiamo presa in prestito alla fisica, però schematizza qualcosa che è vero, ci racconta qualcosa che è vero, le cellule vogliono differenziare, hanno un'urgenza, come di andare in bagno, se tu le metti lì tendono a differenziare, metti in coltura una cellula, quella prima o poi acquisisce un fenotipo. La questione è che fenotipo? E qui il signor Waddington immaginava una serie di bivi, a cosa sono ispirati questi bivi? Al lineage, il lineaggio, prima diventi ectoderma, poi diventi neuroectoderma, poi nel neuroectoderma diventerai neuroectoderma dorsale e nel neuroectoderma dorsale ma sarai un neurone di proiezione del tipo A, B o C2 barra 4.5 e quindi c'è questo progressivo, dover fare una serie di scelte e quindi queste scelte venivano schematizzate come dei bivi lungo la collina, quindi la figlia rotola perché lì è scritto, perché è scritto da qualche forza sovrannaturale che la spinge a differenziare e mentre rotola deve prendere dei bivi, potrà finire col prenderli a caso, ma tu perché sei ingegnere? Veniva comodo quei pullman, mi è capitato per caso. C'è un elemento casuale nel prendere questi bivi, d'accordo? Che però poi alla fine la porteranno verso uno stato stabile, questo stato stabile chiameremo differenziamento. Ok e vi dirò, la metafora tiene, è lì, è ancora lì e la useremo per sempre, sono stati proposti dei diversi modelli perché chiaramente non spiega tutto, le forze che spingono le cellule a differenziare non sono di tipo gravitazionale, dovremmo capirle e anzi probabilmente quello che io spero di trasmettervi alla fine di questo corso è soprattutto quello, un'idea di che cosa sono queste forze, però chiaramente ci sono una serie di elementi che questo schema non spiega, ma che possiamo comunque infilarci così per aiutarci a visualizzare, ad avvicinarlo al vero, capire dove non rappresenta bene la realtà ci aiuta a vedere meglio la realtà, ad aggiungere elementi in questo schema e uno per esempio, anzi qui l'ho già messo, scusate in questa metafora calcistica? Allora un primo elemento, che voi sappiate, quindi c'è questa irreversibilità in questo schema, le cellule devono differenziare, vanno giù e nessuno le può fermare, un po' è vero, però che voi sappiate, le cellule, i cambiamenti di stato delle cellule sono sempre irreversibili? Esistono cambiamenti di stato reversibili nelle cellule? Pensate a un esempio, dai chi è che mi spara una minchiata? No, la pecora d'olli, cellule differenziate, il loro stato è sempre irreversibile, sapete che cos'è l'identità di una cellula? Adesso qui ci dobbiamo riflettere, se le cellule hanno tutte lo stesso genoma, in che cosa le cellule sono diverse le une dalle altre? Ce lo siamo già detti l'altra volta, ma ripetiamocelo, sono diversi in che cosa? Espressione genica, io esprimo il gene A, B, C, D, tu esprimi il gene C, D, E, F, siamo diversi, non ce l'hai la F, è sfigato, siamo cellule diverse, ok, però le cellule non esprimono sempre gli stessi geni, giusto? Possono cambiare di stato, ce l'abbiamo questo concetto? Il linfocita B passa nello stato attivato, poi torna nello stato normale, giusto? E poi per le cellule del sistema immunitario questa cosa è comunissima, ma anche per i neuroni, l'infiammazione, ci sono un sacco di stati, ma prendete me, ok, adesso mi vedete qua a fare il professore, se io vado in discoteca sono molto più agitato, d'accordo? Però poi questo stato è irreversibile, non è che se io vado in discoteca una volta poi vai qui a farvi lezioni, ballando come un pazzo, d'accordo? Ci sono una serie di stati irreversibili, quindi le cellule possono cambiare il loro trascrittoma, ma ritornare al punto di partenza e questo non c'è in questo schema, giusto? Ok, qui schematizziamo solo questa urgenza di differenziare e in più, se volete questo era molto teorico magari su qualcosa che sapete già, speravo io, c'è qualcosa che non sapete ancora ma impareremo e per esempio ci sono alcune cellule che invece riescono a mantenersi in un potenziale più alto, giusto? Le cellule staminali, ve le ricordate? Lo strato basale dell'epidermide, ricordate l'abbiamo visto e ne abbiamo, insomma durante il corso di istrologia abbiamo visto una serie di sistemi staminali, la cellula staminale matopoietica, giusto? Ci sono cellule che si mantengono ad un potenziale più alto e che continuano a produrre progenie e quindi quello che ci possiamo chiedere, che chiaramente non c'è in questa metafora, se c'è questa urgenza di differenziare, perché quelle no? Perché quelle si mantengono diciamo così rispetto alla metafora del signor Waddington ad un potenziale più elevato? C'è qualcosa che le tiene? Oppure sono le altre cellule che vengono spinte? Quindi c'è una forza che è una forza gravitazionale di default che spinge tutti a differenziare e qualcuno le cellule staminali le tiene? C'è una forza, c'è un freno? Le staminali hanno un freno? Oppure sono tutte le altre cellule che vengono spinte e le staminali invece non ricevono questa spinta? Adesso sto andando per estremi, però queste sono delle domande che ci possiamo fare, anzi che vorrei che vi poneste prima, ok? Quindi c'è questa urgenza, ma che cosa la determina? Che cosa regola questa forza? E lo scopriremo. In effetti forse questa l'ho scritta ieri sera, scusate, sono cose che dico sempre, stavolta l'ho scritta, forse non l'ho caricata, però la nuova versione ve la carico più tardi. Ok, e un altro piccolo dettagliuccio che però vorrei già introdurvi, in questo modello le divisioni cellulari sono l'elemento cruciale, la cellula si divide e alla mitosi abbiamo il cambiamento del fenotipo, quando mi divido la cellula A è una cosa, la cellula B è un'altra cosa. In realtà anche questo è un po' troppo schematico, che cos'è prendere un'identità? Perché alla mitosi? Oddio, che succede? Il trascrittoma si trasforma, adesso proverò a mostrarvi qualche esempio e quindi in realtà, adesso lo sappiamo, ci sono dei casi in cui le cellule decidono chi sono immediatamente dopo la mitosi, però insomma perché si portano dietro qualche cosa che le condiziona, adesso vedremo. In realtà questo cambiamento di trascrittoma, comincio a esprimere il gene A, B, C, poi esprimo anche l'E, poi il F, poi il G, comincio a esprimere i geni diversi, è un processo graduale, ok? Non è così sovrapposto alle mitosi, possono essere disaccoppiati, ma però se volete questo qui è anche dal pluripotenza, al metastabile, ok? Però a questo punto, qui è tutto troppo teorico, dobbiamo entrare un po' più sul pratico e questa cosa non è stata possibile farla per molti anni, capire in cosa le cellule sono diverse, misurare questo diventare diverse, perché se le guardi da fuori sembrano sempre uguali e poi improvvisamente ti diventa un neurone. Ma quando avevi deciso di fare il neurone? Ma non lo so, così a un certo punto. Noi invece adesso abbiamo un modo per seguire queste, si chiamano traiettorie di sviluppo, in modo molto preciso e se mi fate il V-Club, è vero che me lo fate, sì, dai, dai, ho un paio di cosette da chiedervi, poi ne faremo meno di V-Club, però per iniziare mi piace averli. Allora, chi è che si ricorda il QR code, il QR code? Eccolo qua, se no non me lo ricordavo manco io, BCS01. Allora la cosa che vi voglio chiedere adesso è proprio di tipo tecnico, noi biologi siamo degli scienziati, però per scoprire, per capire quello che non capiamo, per rispondere alle nostre domande abbiamo bisogno della tecnica, abbiamo bisogno di mezzi tecnici che dobbiamo conoscere e saper dominare. Ok, wow, arrivano cuori in blu dall'Iren, grazie. Chissà se c'è anche un'offerta sul gas, adesso andrò poi a vedere. Ok, allora la questione che vi sto ponendo io dal punto di vista tecnico, se volete scrivermelo per favore, qual è la tecnica che utilizzereste appunto per definire in modo preciso il profilo di espressione delle cellule? Qual è la tecnica che rispetto alla domanda che ci siamo posti, no? Questo modificarsi, confrontare le cellule tra di loro? Trascrittomica, sì giusto, mi piace trascrittomica, ma siamo un po' più precisi, di cosa vogliamo fare il trascrittoma? Dai buttate un po' di cosette. Di cosa volete fare il trascrittoma? Vediamo eh? Vai vai, scrivete, genoteca, bella la genoteca, cos'è? O la ginoteca, dove ci sono molti tipi di gin, c'è il mare, c'è il Bombay, l'Hendrix. Espressione, vedere qui chiaramente quando mettete più di cellule, chip, no? Che chip volete fare? Proteomica, eh ci piacerebbe proteomica, però la proteomica arriva dopo in effetti eh? Perché no? Avete ragione, per sapere che cosa fa una cellula vogliamo sapere qual è il suo proteoma. Il suo proteoma mi dirà che cosa sta facendo. Però forse l'mrna, come state scrivendo giustamente qui, è il trascrittoma, mi dice che cosa vorrebbe fare. Noi stiamo pensando a programmi genetici. Cos'è il programma genetico? È l'mrna che mi dice qual è il programma genetico. E quindi sì, vogliamo comparare i trascrittomi, ma tra chi? Tessuti, di cosa facciamo il trascrittoma? Che voi sappiate, oggigiorno, qui cos'è oggi è il 12 aprile 2023, 11 del mattino. Si può fare il single cell RNA-seq, si può fare il trascrittoma della singola cellula. Sì, dai, avete avuto Valentina Proserpio che vi insegna. Allora, quella è la sua specialità, Valentina sequenza qualunque cellula, così pom pom. Esatto. Single cell RNA-seq. Quella è la tecnica che sta rivoluzionando il nostro concetto di tipo cellulare e anche di stati, perché noi possiamo prendere lo stesso tipo cellulare e mandarlo in discoteca, vederlo dal vivo, vederlo in la lezione. Cioè, a seconda della situazione in cui si trova la cellula, noi possiamo avere un trascrittoma molto preciso. La cellula staminale, quando è quiescente, quando è attiva, quando sta decidendo cosa fare, si ha già deciso. Quella è la tecnica per seguire minuto per minuto che cosa vuol fare una cellula. Cosa sta facendo una cellula? Ok, quindi, quello che volevo chiedere, dove volevo arrivare, era proprio questo trascrittoma a singola cellula. E il single cell RNA-seq, in effetti, e ne approfitto così per dirvi come lo racconto io a chi non ci capisce di queste cose, come l'ho spiegato ai bambini anche una volta, di fatto il nostro genoma che cos'è? È una specie di grosso catalogo dell'ego, giusto? È un catalogo dell'ego, ci sono tutti i pezzi che abbiamo in catalogo, ogni organismo ha questi pezzi in catalogo. Quando facciamo il single cell RNA-seq, è come se andassimo a vedere, vi ricordate, l'ultima pagina delle istruzioni della cosa che vogliamo costruire, dove c'è scritto quali pezzi e quanti. Quali pezzi ci sono in quella bestiola che vogliamo costruire? Quanti ce ne sono? E da lì c'è tutto un sistema di inferenza da cui noi dobbiamo capire di che cellula si tratta e confrontare le tre cellule tra di loro. E quindi qui vediamo che ci sono delle ali, forse ci sono dei denti e che cosa sarà mai questa roba? Questa volta la scatola che te ne fa fare due, no? Perché a volte anche quello è complicato, distinguere le cellule. Ok, però grazie a questo fantastico sistema e di metodi computazionali per fare il cosiddetto dimensionality reduction, in effetti noi a questo punto possiamo confrontare le cellule, vedere cellule che si somigliano di più, cellule che sono più diverse e questa cosa che vedete, questa grossa isola, in questa grossa isola ogni puntino è una cellula e qui vedete sovrapposti, questi sono tutti neuroni durante lo sviluppo del topo, diverse popolazioni di neuroni durante diversi momenti dello sviluppo e quindi vedere un pochino quali sono le somiglianze tra le cellule durante lo sviluppo, tra diversi tipi di cellule e in qualche modo ricostruire in questo modo, però questa cosa ragazzi sta proprio facendo, abbiamo svoltato con questa tecnica per ricostruire le cosiddette traiettorie di sviluppo. Che cos'è una traiettoria di sviluppo? È una modificazione del trascrittoma progressiva, come avevano capito che avrebbe dovuto essere i vecchi embriologi dello sviluppo, una lenta e progressiva trasformazione del genoma da uno stato ad un altro, da uno stato più immaturo a uno stato più maturo, verso il differenziamento, specificazione, determinazione, differenziamento, avvengono tutti lungo queste strade. E quindi qui per esempio vedete una popolazione di, cioè una serie di cellule, neanche tante, è proprio un pezzettino di quel grafico che avete visto sopra, queste cellule ovviamente gli abbiamo dato un'identità, ve lo dico, io sono dei progenitori di neuroni, sono cellule ancora immature e vedete che tendono a differenziare e però a un certo punto hanno anche questo bivio, vedete, alcune cellule diventeranno un tipo, questi sono neuroni dopaminergici, sono quelli che fanno venire il Parkinson quando muoiono, quindi ci interessano le loro traiettorie di sviluppo, come si fa a fare dei neuroni dopaminergici, qual è il programma genetico e lì lo leggiamo. E quindi si vedono questi bivi che assomigliano effettivamente ai bivi dello zio Waddington, vedete c'è una somiglianza con l'epigenetic landscape di Waddington, le cellule sono delle biglie, in questo caso sono dei pallini perché li abbiamo disegnati così, però hanno un trascrittoma che si modifica progressivamente, lentamente, scivolano lungo un pendio, non c'è la gravità, ma c'è qualche forza che li porta a differenziare, che trasforma il loro trascrittoma, progressivamente. Quindi questa gradualità del fenomeno, in realtà il single cell RNA-6 ce la conferma, è molto graduale, c'è una gradualità, quindi una trasformazione graduale del genoma. In effetti ci sono magari delle, vedete qui ci sono più cellule, anche qui ci sono più cellule, qui ce ne sono molto poche, perché? Perché probabilmente quel passaggio è velocissimo, cioè le cellule transitano da uno stato ad un altro e c'è una fase di passaggio in cui il trascrittoma si modifica, cambio i geni che stavo esprimendo, però questa cosa è molto veloce, quindi forse anche l'epigenetic landscape di Waldington in effetti ha delle zone più ripide, delle zone meno ripide, però c'è, c'è, torna. Quella metafora vi dirò, è fatta 50 anni, 70 anni dopo, è ancora qualcosa da dire, in effetti funziona. Ok, ma a questo punto, scusate, chi è che regola, no, ho fatto lo spoiler, chi è che regola il trascrittoma? Chi è che è il maestro regolatore di quali geni esprimiamo e quali no? Come si chiamano questa categoria di molecole? Ce ne sono tanti per carità, però i principali regolatori dell'espressione genica e i fattori di trascrizione, questi fattori di trascrizione si legano alla cromatina e modulano la trascrizione. Allora io avevo preparato così, già che siete sul V-Club, vero? Già che siete qua, è vero che mi rispondete ad alcune basali, basic? Ci sono alcuni elementi di biologia molecolare che ci servirà, che voi sappiate. Per esempio questo, il ruolo di un fattore di trascrizione è quello di aumentare l'affinità dell'RNA polimerasi per il promotore. Ma che… è vero o falso? Chi è in dubbio? Qualcuno di voi ha un dubbio su questo? Ahah, ok, su questo mi sembra che non avete dubbi, giusto? Esatto. Questi promotori non sempre sono così perfetti, l'RNA polimerasi ci arriva con una certa frequenza, il fattore di trascrizione prende l'RNA polimerasi che non vede niente dove sta, è una talpa e dice qua devi trascrivere marronomi, ah grazie, fa e la piglia e la chiaffa e la schiaffa lì e gli fa trascrivere il gene, giusto? Quindi aumenta l'affinità dell'RNA polimerasi per quel promotore, quindi aumenteremo l'espressione di quel gene, bellissimo. E allora scusate, ditemene un'altra. E questi fattori di trascrizione si legano al DNA su base di sequenza, hanno le loro sequenze preferite, si chiamano consensus sequences, giusto? Sono delle conseguenze ripetute e sono sempre le stesse, queste sequenze sono sempre identiche, così, lì avremo quello, lì avremo quell'altro e grazie a questa fantastica conservazione noi riusciamo facilmente a decodificare dove andranno a legarsi questi fattori di trascrizione. vediamo un po'. Ve lo ricordate che cos'è una consensus sequence? Una sequenza consenso di un fattore di trascrizione? È una sequenza di lettere, giusto? A, T, C, G, 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 T, C, 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 A, T, C, G. E quella è, giusto? Socks 2, T, C, G, T, C, 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 G, T, C. Si lega. Ok, vedo che la maggioranza di voi sta pendendo verso il sì, però prima che questa cosa cresca troppo, per favore no, basta, fermatevi. No, come sono sempre uguali? Non avete mai sentito parlare di optimal consensus sequences o suboptimal consensus sequences? No? Ok, queste sequenze consenso e lì c'è un elemento di regolazione della trascrizione ancora più complicato, la faccenda si complica, perché queste sequenze consenso non sono tutte uguali, come per i promotori, ci sono alcune a cui i fattori di trascrizione si legano con altissima affinità e altre invece che così, così, magari se ce n'è proprio tanto, 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 allora questa cosa ci servirà ragazzi, chi la sappiate, ci servirà tra un paio di settimane, se non ce l'avete buttategli un occhio perché ci servirà, questo concetto. Ok, e a questo punto però queste consensus sequences sono sparpagliate in do coio coio dove capita capita e buttane una qua, ne buttana la, ne buttana la, o ci sono degli hot spot, ci sono dei punti caldi nel nostro no, chi è Cornelio? Dovete dirmi qualcosa della mia ragazza? Ditemelo subito, non fatemi soffrire così. No, dai, come si chiamano? È una domanda seria, richiede una risposta seria. Come si chiamano queste regioni in cui, ahah, in cui sono raccolti, no? Ci sono delle zone, anche a te, però non è la risposta. Vediamo un po'? Ah, ci sono dubbi su come si scrive, giusto? Dai, mettetene un po', non devo farli vedere, Tata Box no, al Tata Box è dove si lega l'RNA polimerasi, quello è il suo regno, è il suo bagno, è la sua casetta, il fattore di trascrizione gli indica solo dov'è. Regolatori! No, io mi sto chiedendo se queste sequenze con senso per fattori di trascrizione sono sparse a caso nel genoma o si trovano in dei posti speciali. In effetti era venuta fuori questa cosa, poi si sta perdendo, ma la risposta giusta era enhancer. Sapete cos'è un enhancer? Adesso ci andiamo velocemente, allora andiamo agli enhancer, ok aspettate, no scusate, questo lo vediamo dopo, non rispondete! enhancer, enhancer, è giusto enhancer, ma vediamolo un po', velocissimo, un brevissimo recap perché chiaramente non ho tempo di passare attraverso queste cose, però che ci serviranno, no? Perché noi vogliamo capire come il trascrittoma si modifica progressivamente nel tempo e come questa modificazione del trascrittoma si accompagna a una perdita di potenziale e per questo dobbiamo ricordarci che cos'è un fattore di trascrizione, quindi una molecola che può prendere l'RNA polimerasi e metterla a trascrivere, farla lavorare. Ok ma i fattori di trascrizione, scusate non l'ho messa la domanda, ma rispondetemi lo stesso, sono sempre attivatori, ci sono anche i repressori e come fanno? La distraggono l'RNA polimerasi? Le fanno le boccacce? Come fa un repressore a reprimere? In realtà ci sono tanti modi in effetti, sì qualcosa che in ultima istanza alla fin fine inibisca l'RNA polimerasi, può essere di tipo epigenetico ma può anche essere semplicemente impedire il legame fisicamente dell'attivatore, quando si lega il repressore l'attivatore non si lega, infatti molto spesso sono vicini i siti, comunque questo era solo per vedere se avevate un'idea di queste cose, comunque abbiamo la possibilità di attivare o di reprimere, ci sono delle sequenze con senso che non sono sempre uguali, ci sono dei punti caldi, ci sono delle lettere che piacciono di più, infatti forse le avete, non l'ho messo, ecco magari le avete viste scritte così, giusto? Ce ne sono alcune più importanti, altre meno importanti, alcune possono essere l'una o l'altra, ok, queste sono le sequenze con senso e quindi capite che leggere nel genoma questi programmi genetici è un bel pasticcio, ma parleremo di chipset e cose del genere in futuro, mi basta che le sappiate. Abbiamo poi questi enhancers, quindi regioni in cui si raccolgono, le sequenze sono consensus di tanti diversi fattori di trascrizione e quindi questo complica ancora di più il fatto di leggere questi programmi genetici, perché quando ce ne sono due di un tipo l'interruttore si accende, quando ce ne sono due di un altro tipo l'interruttore non si accende e quindi insomma sono un po' degli interruttori per dei geni, però quello che leggono, il tipo di fattori di trascrizione che leggono non è così semplice da capire così leggendo solo la sequenza. Ci stiamo provando. E di enhancer, questa è l'altra cosa che mi piacerebbe che voi sappiate già, ma ci passeremo comunque, di enhancer i geni tipicamente ne hanno più di uno, ne hanno tanti. Perché? Lo sapete perché? Non ne basta uno di interruttore, ok, quando c'è questo fattore di trascrizione A, B, C, D, io mi accendo. Quando non ci sono tutti e quattro mi accendo poco, se ce ne sono solo due non mi accendo. Perché ce ne sono tanti di enhancer in ogni monte dei geni tipicamente? Lo sapete? No? Perché più di uno? Non ne bastava uno? Guardate, questa è la betaglobina di pollo, ce ne sono tipo 20, 20 enhancer. Perché? Quanto? Ne basta uno? Magari, uno solo di questi basta per accendere il gene. Perché ne abbiamo 20? Qualcuno lo attiva di più, di meno? Ok, ma il concetto di enhancer contesto specifico, tessuto specifico, non ce l'avete ancora? Lo avrete allora, lo faremo in questo corso. Questi diversi enhancer funzionano in contesti diversi, ok? Se sei una cellula, lo stesso gene può essere espresso da più tipi cellulari diversi e quindi a seconda del tipo cellulare in cui voglio esprimere quel gene ci sarà un enhancer, ci sono gli enhancer tessuto specifici. E li scopriremo, li scopriremo, scopriremo anche i network di espressione genica e tutte queste cose qua. E vi dirò che ti raccontavo un sacco di cose, va bene dai facciamo una cosa, queste sono sempre molto interlocutorie, però ve lo racconto lo stesso, queste sono tutte cose che poi vedremo nel dettaglio, però inizio a presentarvele. Quindi a un certo punto esisteranno dei network di regolazione genica, ok? Il programma genetico sarà riuscire a fare in modo che sia acceso il gene A, B, C, D, ok? L'emoglobina oppure la mioglobina, l'alfactinina 3, tutti questi geni che sono sparsi del genoma, ma io voglio accendere tutti questi. E ci saranno dei network che permettono di accendere quello. E quando li ho accesi tutti, quello è il programma genetico che utilizzo. E chiaramente, quindi ci vorranno degli stimoli che ti diranno accendi il gene A. Il gene A poi sarà inserito in una catena, che accende il gene B, che accende il gene C, poi ci sono i feedback e tutta una serie di meccanismi che vedremo. Fino ad arrivare a esprimere quel set di geni, che io chiamo tipo cellulare. Quel set di geni io lo chiamo mio blasto, ok? Perché è mio. Quindi accenderò questi geni e a un certo punto però questo programma genetico, e questo è il concetto fondamentale, deve diventare autonomo. Cioè questo network di regolazione genica dovrà in qualche modo riuscire ad automantenersi. E per fare questo, ma questo lo sapete già, dovremmo arrivare ad un livello in cui modifichiamo la cromatina. Non dobbiamo più stare e dire quel gene no, quel gene no, quel gene no, sono il mio blasto no, l'emoglobina no, no per favore i recettori del potassio di quel tipo lì no, mi fanno sbarellare. Allora cioè di dover spegnere attivamente ogni gene, questo non viene fatto dalle cellule, a un certo punto la cromatina viene condensata, questo lo sapete no. Quindi alla fine di questo processo in cui attiviamo solo certi geni ed altri no, i geni che non attiviamo e beh a questo punto cerchiamo di trovare un modo un po' più, meno attivo per reprimerli e dire boh senti quelli non mi servono, sono abbastanza sicuro che non li servono più. E qui arrivano le modificazioni della cromatina, sapete tutto meglio di me, acetilazioni, metilazioni, modificazioni degli stoni, K3, K27, sapete tutto meglio di me. Però arriveremo, non lo dovete sapere, ve lo sto soltanto evocando, va bene? Voglio mandarvi delle immagini che avete già visto, giusto? Dai queste le avete già viste? E quindi probabilmente, boh basta no, sentite non voglio più andare oltre, probabilmente però queste modificazioni epigenetiche di fatto sono quella resistenza che abbiamo visto nella cellula farsi di programmare. La cellula progressivamente, probabilmente, impacchetta il suo DNA in una maniera che è sempre più stabile, la cromatina è sempre più spenta e quella è la perdita di potenziale, d'accordo? Quindi questi geni diventano sempre meno accessibili e a questo punto la cellula, anche se ti ho messo nel citoplasma dell'uovo, ma è un posto fighissimo, puoi esprimerti al meglio, butta fuori il tuo potenziale, no basta, sono geni che sono repressi da troppo tempo, preferisco il suicidio. Ok, voilà, quindi non è impossibile il citoplasma dell'uovo, SOX2, MIC, i soliti 4, sono in grado di riprogrammare, quindi è possibile, ma insomma c'è una resistenza e quella resistenza l'avete già studiata. Lascerei perdere anche il reprogramming, sapete? Lascio stare il reprogramming quest'anno che non ci interessa e voglio andare direttamente a questo punto, entrare un pochino di più nel vivo del corso. Ok, allora questo che vi ho fatto fino adesso era una specie di overview dei principi fondamentali, acquisizione progressiva di un fenotipo attraverso una modificazione progressiva del trascrittoma e perdita progressiva di potenziale attraverso un progressivo impacchettamento della cromatina. Ok? Questo più o meno voleva essere con qualche esempio. A questo punto invece dobbiamo avvicinarci un po' di più al vero trattare di cellule, di esempi specifici. Ecco, prima di fare questo però voglio ancora di avere un attimo per parlare di questioni tecniche, le tecniche, le tecniche sono importanti, quindi oggi ancora finire, poi da domani cominciamo con qualcosa di più pratico, però oggi vediamo ancora un attimo un cappelletto tecnico, perché io vi ho detto lungo il destino le cellule modificano, possiamo fare il single celler nei SIC, però questa è una tecnica abbastanza recente e comunque è tutto un po' sparso in quest'etero biologico, io vedo ste palline, ma dove sono dal vero? In vivo, nell'animale. Ok? Noi vogliamo capire che quando e come le cellule decidono il loro destino, il loro fenotipo, però abbiamo bisogno di poter seguire questi lineaggi in vivo. Ok? Abbiamo parlato di fate e di potential, il destino e il potenziale sono due cose diverse, ma cominciamo a seguire questo destino, siamo capaci di seguire il destino di una cellula e vedere qual è tutto il suo lineaggio, l'albero genealogico delle cellule, lo sappiamo ricostruire, come si fa? Ne avete già un'idea? Di come si può fare il cosiddetto lineage tracing o anche poi fate mapping, perché io marco una cellula e poi vedo che cosa diventeranno i suoi figli o i suoi progenitori, scusate, i suoi figli, le sue cellule figlie? Ah! Vabbè qui avevo messo solo il video della blastula, vedete tutte queste cellule? Che cosa diventerà questo blastomero qua? Questa cellula in realtà siamo qui, siamo già nella morula, quella cellula della blastula, che cosa diventerà? Come faccio a saperlo? Ce l'avete un'idea? Ah! In effetti poi magari l'avete già visto anche in anatomia, noi abbiamo il fate mapping della blastula molto preciso, è stato fatto già da più di 100 anni, sono 100 anni che noi sappiamo il fate mapping, sappiamo il destino, quindi io vi posso dire che se questa è la blastula di uno xenopus, tutta questa parte diventerà ectoderma, il tessuto nervoso deriva da cellule che si trovano in questa zona, i muscoli derivano da cellule che si trovano in quest'altra zona, qui ci sarà l'endoderma, si sa già, c'è qualche cosa, il destino è già scritto, in queste uova molto facilmente si possono seguire anche, come si fa a costruire? Come hanno fatto dai, un sacco di tempo fa, con tecnologie molto meno sofisticate delle nostre, a capire che cosa diventerà una cellula, come lo fareste? Voi avete davanti quella roba lì e volete capire, fare la mappa, capito? Disegnare lì sopra, questi diventeranno neuroectoderma, quelli diventeranno ectoderma, vabbè questa storia in realtà comincia con dei coloranti, le coloriamo, le coloriamo le cellule per poterle seguire, ti metto un radiocollare, non lo so, una banderiglia, ok? E quindi man mano che tu poi ti muovi in questo embrione durante la gasturazione, io posso seguire dove vai a finire, le coloriamo a monte, cerchiamo di avere dei punti di riferimento, sapere che cosa abbiamo colorato e poi andiamo a vedere dove vanno a finire queste cellule. La storia di questo tracciare le cellule con dei coloranti, in realtà è iniziata con dei coloranti naturali, in molte specie marine, nelle cellule uovo la mamma deposita un pigmento, le uovo avete mai mangiato la pasta ai ricci di mare? C'è quel bel rosso, quello è il pigmento. Allora nel caso di questo tunicato, una sciglia, adesso non so più cos'era, comunque nel caso di questo tunicato c'è un pigmento che si vede solo in un blastomero, alle quattro divisioni, alla seconda divisione, vedete questo blastomero soltanto lì possiede questo colorante. Allora il signor Conklin all'inizio del Novecento aveva seguito queste cellule che mantenevano questo colorante e che cosa aveva scoperto? Che queste cellule diventavano tutte cellule muscolari. Quindi seguendo il lineaggio, a un certo punto è come il gioco delle tre carte, le cellule cominciano a dividersi troppo, sono troppo piccole, non capisci più dove vanno a finire, ma grazie a questo colorante che si portavano dietro, lui invece riesce a dire guarda che diventano tutte cellule muscolari. Quindi c'è qualche cosa in questo blastomero che segna il loro destino, il destino di quelle cellule è segnato e io posso seguirlo, diventeranno sempre quello. Allora questa è una figata, però a questo punto io vorrei poter seguire anche le altre cellule. E come faccio a questo punto? Che ne dite? Come avranno fatto questi primi biologi? Vabbè la mamma ci ha messo il pigmento e io che sono lo zio, però ce lo posso regalare anche io un pigmento all'embrioncino, lo zio biologo, avrà avuto qualche colorante vitale nel suo arsenale di colori? Che ne dite sì o no? Sì? Esatto! E quindi c'è stato tutto un giocare ad art attack, predi del rosso neutro, fatto! E come il rosso neutro in realtà c'erano un sacco di colori, si poteva fare multicolor anche questo embrione, potevi colorare più gruppi di cellule contemporaneamente e questo lavoro è stato un lavoro fatto a livello planetario da un sacco di laboratori, molti studenti come voi 100 anni fa erano lì a colorare le cellule e a cercare di capire dove andassero, naturalmente per estrarre la logica, non solo per essere descrittivi. Però grazie a questo enorme lavoro di mappatura, siamo riusciti in effetti ad avere a un certo punto questa mappa, no? Migliaia di persone che hanno lavorato per 20 anni e abbiamo questa mappa però, dei destini, la fate map, la mappa dei destini della blastula, facendo tutta questa serie di piccole colorazioni. Chiaramente però, di nuovo, finché riusciamo a riconoscere le cellule per la loro posizione spaziale. Io ho colorato queste e so che erano lì, però non è sempre così facile, giusto? Sì, poi scusate, qui a un certo punto sono stati ideati anche dei coloranti fluorescenti, così si potevano guardare con focale, potevamo avere delle immagini sempre più precise e siamo felici di tutto questo, ma questi coloranti però hanno un fondamentale, sostanziale, clamoroso difetto. Pensateci un po'. Durante lo sviluppo cosa fanno le cellule soprattutto, a parte differenziare? Sì? Si dividono, come le pazze, giusto? Quindi io prendo un po' di colorante, coloro questa cellula, giusto? Quando la cellula si divide che ne sarà del colorante che gli ho messo? Sì? Si diluisce, giusto? La cellula si divide a metà, 50% tu, 50% tu, si divide ancora, 25%, 12,5%, 6, no, a un certo punto non si vede più, ok? Diventa non detectable, quindi chi si divide tanto lo perdiamo, riusciamo a seguire chi non perde troppo citoplasma, quindi per carità nelle prime fasi dello sviluppo, dove le cellule hanno degli appezzamenti giganti di citoplasma che si dovranno suddividere, è facile, io do il colorante a tutti questi e poi loro se lo dividono dopo. Ma se io voglio seguire una cellulina più piccola, già un po' più avanti nello sviluppo, eh no, questo metterci il colore non funziona più, o quella diventa post mitotica e allora seguo doveva finire, ma se si divide la perdo. Mi serve un'altra idea e vorrei che me la deste voi questa idea. Oddio, eccoci qua, pronti? Non è an answer, scusate questa è scappata dalla cosa di prima. Che cosa mi dite? Quale sarebbe il marcatore ideale o la tecnica diciamo? Come lo vorreste questa marcatura per poter seguire magari cellule piccole che si dividono un casino? Ci serve un'idea? Fluorocromi? Ma la fluorescenza possono essere anche non fluorescenti, perché? Oddio. No. Che ti prende? perché? Ho toccato qualcosa che non volevo toccare, no? Anticorpi? Marcare DNA? Aspetta che stanno, dai, ancora, ancora. Mettetene un po', poi quelle che vi piacciono potete anche votarle, scrivendoci anche voi. Ce n'è qualcuna che vi sta già piacendo? Ce n'è qualcuna che mi piace eh? Ti dirò. Noi vogliamo qualcosa che non si diluisca lungo le generazioni, che possa sopportare tutte le divisioni cellulari che vuoi e che sia sempre lì, lì con noi che possiamo vederla. Non è facilissimo eh, non vi preoccupate, lo so che ci pensiamo, poi vi darò la risposta. GFP! Cos'è GFP? È una sigla? GFP, DNA, anticorpi, modificazione del genoma, sta andando fortissimo! Perché effettivamente, scusate, le cellule quando si dividono, che cos'è che si passano? Cos'è quella cosa che, quella parte delle cellule che si mantiene lungo le generazioni? È il DNA, ma non fisicamente, è l'informazione che c'è su questo DNA, giusto? Viene copiato. Le cellule danno una copia del proprio genoma alle figlie. Quindi se questo, modificazione del genoma, mi piace molto, se questo DNA è modificato, allora le figlie lo erediteranno. Quindi in qualche modo noi vogliamo una mutazione ereditabile e colorata. Si può fare una mutazione ereditabile e colorata? Sono sicuro che avete un sacco di idee, un sacco di idee, io in realtà qui vi do sempre la prospettiva storica, adesso ci arriviamo, sì che si può fare, ok? Si chiamano reporter, geni reporter, e sono vari tipi di molecole che sappiamo identificare, che tu scienziato sai dire dov'è, lo vedi al brucio, con un anticorpo perché è fluorescente, perché è un enzima che produce qualche, che insomma modifica qualche, produce un precipitato colorato, insomma c'è un qualche modo in cui io posso sapere dov'è quella proteina. Si chiama geni reporter e chiaramente noi lo vogliamo ereditabile, deve essere genetico. In realtà la storia delle marcature genetiche è iniziata con degli xenotrapianti, non c'erano ancora i reporter, non erano ancora stati isolati dei geni specifici, la GFP, cose di questo tipo, e quindi la signora Leduren che studiava le creste neurali, sapete cosa sono le creste neurali adesso, vero? Sapete tutto le creste neurali, sono le cellule jolly che fanno neuroni, melanociti, fanno un po' di tutto, allora lei che cosa è che faceva? Prendeva delle cellule di quaglia, cellule di quaglia e era l'albori dell'immunoistochimica, si erano identificati degli anticorpi anti-quaglia, quindi c'era una qualche proteina che c'era solo, o un epitopo che c'era solo nella quaglia, quindi si poteva usare un anticorpo per riconoscere le cellule di quaglia. E quindi che cosa ha fatto la zia Nicole? Faceva dei trapianti, prendeva il tubo neurale, prendeva dei pezzi di tubo neurale subito di fianco e li trapiantava nello stesso punto di un embrione di pollo, quindi toglieva delle cellule, un po' faticoso ma insomma, toglieva delle cellule di pollo, metteva al suo posto delle cellule di quaglia lungo il tubo neurale, un piccolo trapianto come vedete qua e a questo punto aspettava che l'animale crescesse e andava a vedere dove erano finite queste cellule di quaglia. In questo pulcino che vedete lassù è molto evidente dove sono andate a finire le cellule di quaglia e lì non c'era bisogno di usare un anticorpo, giusto? Perché? Cosa diventano una delle cose in cui si trasformano? Le cresce neurali danno origine a melanociti, quella ala colorata è data da melanociti di quaglia che sono andati a finire lì, quindi lei ha preso un pezzetto di tessuto che era di fianco al tubo neurale qua e si è trovato il pulcino con la quaglia, scusate il pulcino con le ali nere, magia, abbiamo fatto il lineage tracing di una piccola popolazione che si espande enormemente e andiamo a vedere dove va a finire. Questa è una marcatura genetica, chiaramente nel resto del corpo per altri tipi di neuroni lei usava questi anticorpi antiquaglia, li vedete lì? Quindi cellule marcate con l'anticorpo antiquaglia. Allora questo in realtà era agli albori, oggigiorno GFP sapete tutti che cos'è? Possiamo fare dei transgenici, possiamo inserire nel genoma dell'animale un gene che normalmente non c'era e l'altro anno nessuno sapeva come si fa un transgenico, è vero anche quest'anno? Come si fa a produrre un animale transgenico? Il topo verde, il coniglio verde, c'era un artista che faceva gli animali transgenici, non era vero, però si vantava di avere fatto la transgenica art. Sapete come si fa a fare un coniglio verde? Non sono come si chiamavano i negramaro, anche loro facevano i conigli verdi, ma come si fa a fare il coniglio verde dei negramaro? Mi avete un'idea? Bisogna prendere questo gene, reporter lo chiamiamo, la GFP, gene reporter fluorescente e bisogna infilarlo da qualche parte nel genoma dell'animale. Non avete un'idea di come si fanno queste cose? Va bene, si può sparare nell'ovocita oppure si possono fare delle cellule embrionali staminali, vengono modificate le embrionali staminali, poi si ricreano degli embrioni, delle chimere, con queste chimere, non lo sapete? Vabbè, non lo so, però io non posso fare tutto. Comunque sappiate che ci sono una serie di tecniche che si possono utilizzare per introdurre un gene esogeno nel genoma, in modo stabile, ok? In questo modo noi facciamo dei transgenici, ci sono animali che portano, di cui abbiamo modificato in modo stabile il loro genoma, inserendo qualcosa che prima non c'era. Ok, ma supponiamo di inserire un gene reporter, allora si può fare lo stesso trucchetto dei trapianti che aveva fatto Nicole Duren, questa volta con delle cellule verdi fluorescenti e di nuovo le seguiamo, andiamo a vedere dove vanno. Devi avere un'idea molto chiara di che cosa hai prelevato però, ok? Cioè tu devi avere mappato bene quello che stai prendendo, io ti dico che quella parte del tubo neurale diventerà la parte caudale del tubo neurale, ma devo essere sicuro di quello che ho preso. In realtà non sempre col trapianto riusciamo a essere così precisi e magari delle volte vogliamo seguire delle piccole popolazioni cellulari. Vedremo di nuovo degli esempi, però adesso voglio rimanere ancora un po' teorico, solo per oggi, poi da domani giuro saremo tutto molto specifici. Però questa è di nuovo una tecnica molto base, generale in biologia. Può capitare che voi vogliate seguire una specifica popolazione cellulare. E ce l'ho l'esempio in realtà, ve lo faccio vedere qua. Per esempio, vi faccio prima l'esempio dai e poi arriveremo al come si fa. Allora per esempio, quando io ero uno studente, questo qui è uscito proprio quando io mi stavo laureando questo lavoro e me lo ricordo, perché era stata una notizia, ci si chiedeva quali fossero i progenitori dei neuroni durante lo sviluppo. C'è una zona, quando appena si è ripiegato il tubo neurale, vedete qua, si chiama ventricular zone, è un epitelio che circonda questa cavità e ci si chiedeva, si sapeva che lì c'erano i progenitori, però ci sono un sacco di cellule che si dividono e non si capiva niente, c'era qualche marcatore, ma chi è che poi produce i neuroni? Allora in quella zona c'è però anche una popolazione di cellule gliali, si chiama glia radiale, avete già sentito a nominare? Non so se l'ha detta la… comunque non vi preoccupate, è un tipo di cellule gliali, embrionali, che hanno il corpo cellulare lì ed erano i sospettati numero uno. Come facciamo a dire se le cellule della glia radiale sono i progenitori di tutti i neuroni? Allora per fare questo, faccio un salto indietro, dobbiamo utilizzare una tecnica diversa, abbiamo bisogno di modificare il genoma solo di alcune cellule, in una zona in cui ce ne sono tante io voglio andare a pescare in modo preciso solo certe cellule. Come si fa? Allora esiste una tecnica che si chiama conditional mutagenesis, mutagenesis condizionale, in cui si utilizza una recombinasi, molto famosa, si chiama CRE, mai sentite a nominare? Ok, sarò il primo a raccontarvi di questo tool, questo è un tool proprio base che è utilizzatissimo in biologia in tutti gli ambiti. La possibilità di modificare il genoma, adesso voi sapete tutti questo CRISPR-Cas9, per le cose che servono a noi CRISPR-Cas9 forse ci arriverà ma ancora non ci siamo. È ancora molto più efficiente quest'altro metodo qua, che si chiama CRE-recombinasi. Che cos'è la CRE? È una recombinasi, quindi media una ricombinazione onologa, taglia un pezzo di DNA che cuce e lo fa, questa è la cosa fondamentale su base di sequenza. Esistono dei siti, questa volta precisi, LOXP e questi siti LOXP fanno da gancio alla CRE e indicano il punto in cui ci sarà il crossing over, il punto in cui verrà tagliato il DNA. Ne taglio un pezzo e adesso vediamo cosa andiamo a ripescare. In effetti il modo in cui viene ricombinato il DNA dipende dall'orientamento di queste sequenze LOXP. E non voglio farvela neanche troppo lunga. Comunque, vedete, se le sequenze LOXP si guardano, allora il gene viene semplicemente girato. In realtà adesso vi dirò, a me interessa soprattutto quest'altro caso, quando le sequenze LOXP sono tutte nella stessa direzione, il risultato della ricombinazione è quello di escindere un pezzo di DNA. Quindi se voi queste sequenze LOXP le piazzate intorno all'enhancer critico di un gene che vi piace tanto, potrete mutarlo in modo condizionale. Quindi è un modo per indurre delle mutazioni. La mutazione che interessa a noi è una mutazione colorata e adesso ci arrivo a raccontarvi come la coloriamo. Sì, sì, dimmi pure. Per l'efficienza. La CRE è implacabile. CRISPR-Cas non sempre arriva, ha bisogno di più pezzi e non sempre arriva con l'efficienza che ti serve a segno. Ma in realtà la stanno, insomma, sta migliorando. Quindi può darsi che l'anno prossimo già vi racconterò. Ci sono alcuni adesso modelli basati su CRISPR-Cas, ma ancora non funzionano come si deve. La CRE invece è implacabile, è favolosa. Basta averla espressa per pochi minuti e ricombina. Ok, e quindi è un modo molto efficiente per eliminare un gene. per eliminare un pezzo di DNA. Attenzione, quindi il problema è però a questo punto come faccio ad arrivare la CRE in quella cellula? E come faccio a colorarla? Allora qui niente, ve lo devo solo raccontare. Di fatto, il punto principale è avere la CRE che venga espressa, quindi regolare, controllare l'espressione della CRE. Come faccio a controllare l'espressione di un gene? Ci sono tutte le sequenze regolative che voglio in banche dati, becco un enhancer, l' enhancer che funziona, un tratto di DNA. Prendo dei pezzi di DNA che normalmente regolano l'espressione, che ne so, del gene che mi piace. Nel caso del cervello, per esempio, qui c'è un gene che si chiama BLBP, Brain Lipid Binding Protein, ma chi se ne frega cosa fa in effetti in questo momento, però che è un gene specifico della glia radiale. La glia radiale esprime quel gene e gli altri vicini no. E del gene BLBP nel 2004 si conoscevano le sequenze regolative, io li ho chiamato promotore, ma in modo generico. In realtà era un enhancer se non sbaglio, era proprio tutto un tratto a monte fino a un certo punto che si sapeva controllare l'espressione di BLBP nel cervello. E quindi a questo punto io posso avere la CRE espressa solo nelle… ma facciamolo direttamente qua. Posso avere la CRE espressa solamente nelle cellule della glia radiale. Wow, siamo quasi al gol, abbiamo quasi segnato, siamo in area, ok? Quindi esprimo questa proteina che può ricombinare, a questo punto mi serve che la mutazione che questa CRE induce sia una mutazione colorata. E il trucco, di nuovo, bisogna farsi venire un'idea, il trucco ingegnoso qual è? Avere un genere porter, in questo caso la beta-galattosidasi, ma quello che ti piace di più, la GFP è arrivata dopo in effetti, all'inizio si usava questa beta-galattosidasi, avere un genere porter in un locus che sia molto espresso in qualunque cellula, ed era stato identificato questo locus rosa 26, sul cromosoma 6, stiamo parlando del topo, questo locus ce l'hanno tutti, ma dai non esprimi il rosa 26 sfigato, questo è un locus che è espresso in tutte le cellule, è selezionato per quello. Lì che cosa è stato inserito in questo locus? Il genere porter, ecco che però le cellule normalmente non esprimono questo genere porter, perché l'RNA polimerasi si ferma, c'è uno stop codon che fa sganciare l'RNA polimerasi, quindi l'RNA polimerasi si aggancia tutti i giorni, ma non arriva mai al genere porter. Questo stop codon però, lo zio biologo che è furbone, ci ha messo di fianco due siti loxpi e quindi quando arriva la recombinasi, la CRE fa saltare via questi siti loxpi, fa saltare via lo stop codon, il codone di stop salta e a questo punto la polimerasi continua e trascrive il genere porter. Risultato? Le cellule BLBP da quel momento in poi iniziano a esprimere beta-galattosidasi, ma non solo, siccome è una mutazione genetica, le figlie di queste cellule erediteranno questa mutazione, giusto? Stiamo facendo un lineage tracing, stiamo tracciando il lineaggio, dimmi. Sì. CRE è già lì, tutte le cellule che esprimono BLBP hanno quel set di fattori di trascrizione in grado di accendere quell'interruttore. Chiaramente però quell'interruttore è stato messo come un transgenico, quindi tu prendi le sequenze, questo qui è un costrutto, questa parte di DNA che controlla l'espressione di BLBP, ci appiccico la CRE, quindi quando si accende quell'interruttore non avrò BLBP, ma ho messo la CRE, hai costruito tu, hai costruito un interruttore, hai appiccicato un interruttore per sentire quand'è che bisogna esprimere BLBP e gli hai appiccicato la CRE, questo è stato buttato così nel genoma che si inserisse da qualche parte, quindi il topo è un topo transgenico che contiene nel suo DNA questo elemento e anche quest'altro, quindi ha un DNA modificato per cui quando BLBP viene acceso parte la CRE, perché c'è una copia, chiaramente queste stesse sequenze sono presenti anche nel gene BLBP, quello vero, questo si chiama transgenico, mentre da qualche altra parte c'è un interruttore per BLBP che però guida l'espressione di questo gene, anche qui la CRE è un reporter se vuoi, della CRE, questo è un modo, l'altro modo è quello proprio di andare a sostituire il gene, tu puoi togliere BLBP e mettere al posto di BLBP la CRE, quello si chiama NOKIN, mai sentito parlare di NOKIN? E va bello se ve ne occuperete più avanti la vostra vita, in questo caso abbiamo solo, quindi abbiamo creato un animale transgenico modificato, però queste due modificazioni possono interagire tra di loro, perché quando BLBP verrà espresso, la CRE ricombina, parte via lo stop codon, vi trovi la beta-galottosidasi e vi faccio vedere questo in effetti, allora per vedere la beta-galottosidasi qui la vedrete in blu, perché è un enzima, gli si dà un substrato che si chiama X-GAL e lui lo trasforma, dove c'è la beta-galottosidasi questo X-GAL diventa blu, è una magia, è divertente. Allora che cosa vediamo però? Che è AE9.5, che effettivamente è quando BLBP inizia ad essere espresso, vedete lì ai due lati, questo è il futuro cervelletto, questi sono i futuri emisferi teleencefalici, inizia a esserci un po' di blu, cosa vuol dire? Che queste cellule hanno acceso BLBP, però hanno acceso anche la CRE, la CRE ha ricombinato, sono piene di beta-galottosidasi e nel giro di 24 ore ecco che tutta la ventricular zone è meravigliosamente blu, quindi siamo riusciti a indurre una mutazione condizionale, in realtà in questo caso una mutazione colorata, quindi a esprimere in modo condizionale questa beta-galottosidasi solo nelle cellule della glia radiale. A questo punto però la nostra domanda era, ma i neuroni nell'adulto sono figli di queste cellule della glia radiale? Allora a questo punto basta aspettare che l'embrioncino cresca, diventi adulto, facciamo una bella sezione e guardate questo cervello, è tutto blu! Ma bugi pao! Ok, è tutto blu! Se voi andate a guardare, tutti i neuroni, e questa era stata la bella notizia, tutti i maledetti neuroni e anche tutte le cellule gliali erano tutti blu, quindi la cellula della glia radiale è il progenitore primario, è la cellula staminale neurale, da cui originano tutti gli altri tipi di cellule del sistema nervoso centrale. E noi lo sappiamo perché abbiamo fatto questo lineage tracing. Voilà! Quindi tutti i neuroni sono blu. Attenzione però, abbiamo un altro problema. E qui siamo sempre sul tecnico, fatemi solo vedere che non mi allungo troppo coi tempi. No, alla grande proprio! Sì sì, oggi siamo ancora soft, poi domani cominciamo un po' di più. Però vorrei che faceste un po' di confidenza con questi trucchetti della biologia, eh? Artifizi che però ci servono, ci servono un casino. Sì dimmi! E' certo! E' certo! E' naturalmente su questo poi possiamo litigare, c'è chi dice no, però è spesso un po' anche dei neuroni, dopo, prima, eh eh. Ok? In effetti BLVP alla fine non era il gene migliore. Però poi la conclusione era giusta. Con dei geni più precisi è stato poi raffinato questo esperimento, però vi ho fatto vedere per motivi anche così storici il primo. Voilà! Però che cosa succede a questo punto? Che la mutazione una volta che è stata indotta, non è reversibile, giusto? C'è una volta che il gene, lo stop codone è saltato, il gene reporter è espresso e lo esprimi tu e i figli, e i figli dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, tutti esprimeranno sto reporter. Ecco però per esempio, sempre quando io ero ancora giovane e iniziavo la mia carriera di ricerca, si era scoperto che nell'adulto c'era ancora un po' di neurogenesi. Ah! Ci sono delle cellule staminali. Ci sono delle cellule staminali, cioè cellule che sono capaci, per esempio nell'ippocampo, di dividersi e dare origine a dei nuovi neuroni. Ok? A dei nuovi neuroni lì, nell'ippocampo, nel bulbo olfattivo. Comunque ci sono delle cellule progenitrici che possono dare l'origine a neuroni. A questo punto ci piacerebbe capire chi sono questi progenitori. Chi sono questi progenitori di neuroni? Allora, qual è il problema? Che se tutte le cellule del cervello sono già marcate all'inizio, io uso BLBP. BLBP fa ricombinare, guida l'espressione della CRE, ricombinano tutte le cellule del cervello, è tutto blu e vabbè, non si capisce più niente, è già tutto blu. Quindi qui il problema era che questi progenitori, almeno l'ipotesi, era che fossero molto simili alle cellule della glia radiale embrionale, ma che si mantenessero nell'adulto. Ok? Quindi a un certo punto per riuscire a tracciare queste cellule, bisognava evitare che la cellula della glia radiale ricombinasse e avere la ricombinazione solo nell'adulto. Quindi avere una mutazione condizionale, si chiama conditional mutagenesis, quella che vi ho detto io, però questa volta voglio aggiungere un elemento in più, voglio che sia inducibile. Ok? Io voglio una mutazione condizionale, ma che la mutazione avvenga quando lo dico io. Ok? Inducibile. Come si fa? E questa cosa si fa, cioè è stata fatta, di nuovo con un trucchetto. Come fa? La CRE, lei va pazza per il LOXP, ci si appiccica, se la lascia andare, la CRE ha la sua sequenza nucleare, fila nel nucleo, trova la sua sequenza LOXP, se la mangia, e poi si fuma una sigaretta, è felice. Noi invece qui vogliamo evitare che la CRE vada nel nucleo, vogliamo tenerla fuori e questa cosa è stata fatta legando, facendo una proteina di fusione, che è questa cosa che vedete qua, una proteina di fusione tra la CRE, che vorrebbe essere credo questa cosa tonda, bianca, ed un recettore per gli estrogeni. Sapete che cosa sono i recettori per gli estrogeni? Gli estrogeni sono dei farmaci, cioè scusate, sono degli ormoni, che hanno dei recettori citoplasmatici e l'effetto dell'arrivo dell'estrogeno è quello di sganciare il recettore da una molecola che lo tiene nel citoplasma e permettergli di andare al nucleo, dove regolano la trascrizione normalmente. Ecco allora, questo sistema però, di poter migrare al nucleo quando ricevo un farmaco, è esattamente quello che vorrei io, che facesse la CRE. Io vorrei che la CRE andasse al nucleo quando io do un farmaco all'animale, io do un farmaco e la CRE migra nel nucleo. Questa cosa in effetti si è riuscita a ottenere facendo una proteina di fusione, una proteina mitologica, d'accordo? Il corpo d'uomo e la testa, non mi ricordo. Comunque questa proteina quindi con una parte di recettore dell'estrogeno e una parte di CRE fusi insieme, fa sì che la CRE rimanga bloccata nel citoplasma. La CRE lì vorrebbe andare al nucleo, ma non ci può andare, perché è bloccata nel citoplasma. Passa lo sviluppo, ma io voglio andare al nucleo, no! Allora chiaramente però, qual era il problema? Che questi recettori degli estrogeni potrebbero rispondere anche agli estrogeni fisiologici, questo non ci piace. In realtà questo è un recettore degli estrogeni modificato per rispondere soltanto a un farmaco che diamo noi e che si chiama Tamoxifen. Tamoxifene è un estrogeno sintetico, viene usato in realtà anche per la terapia del tumore al seno, viene utilizzato perché stimola anche i recettori degli estrogeni fisiologici. Comunque, e quindi abbiamo una molecola che reagisce solo a un farmaco artificiale che do io e che induce la migrazione della CRE al nucleo. A questo punto io posso anche decidere quanto Tamoxifen dare. Te ne posso dare un botto, ti metto a bagno nel Tamoxifen, ok? In modo che la CRE stia sempre nel nucleo e ricombina più che può, oppure te lo faccio appena appena annusare. E la CRE a questo punto migrerà il nucleo ma ci starà 5 minuti, poi non c'è già più Tamoxifen e si torna via. Fuori fine della gita, arrivederci, vi è piaciuto? Grazie. Salutate all'ingresso. Allora e vi faccio vedere come è stata fatta questa cosa. Per esempio, per seguire le cellule staminali adulte, si era visto che probabilmente il progenitore esprimeva questo gene, nestina. La nestina sembrava un buon gene. Qual è il problema? Che la nestina è espressa già durante lo sviluppo. I progenitori embrionali anche loro esprimono nestina. E quindi utilizzando questo sistema del CRE-IRT2, cosa è stato fatto? È stato preso le sequenze regolative della nestina, quindi tutte le cellule che esprimono nestina esprimono anche questa proteina diffusione modificata. CRE-IRT2. Si chiama così, CRE-IRT2. Quindi il CRE-IRT2, qui non c'è il T2 ma fidatevi, che cosa fa? Quando viene espresso però finisce nel citoplasma. Quindi è presente durante lo sviluppo, la CRE c'è. Le cellule nestina esprimono la CRE-IRT2. Ma questa CRE-IRT2 è nel citoplasma e non può ricombinare. Tiè. E i CT-LOXP le prendono in giro anche. Che cosa succede però a questo punto? Che quindi io posso avere tutto lo sviluppo che passa tranquillo, senza ricombinazione dei CT-LOXP e nell'adulto invece un giorno vado giù in stabulario e faccio per gavage, si possono dare in vari modi questo farmaco, glielo fai mangiare, insomma non è particolarmente problematico, gli do il farmaco, il tamoxifen arriva, la creva al nucleo e parte la ricombinazione. Per esempio in questo studio che vi faccio vedere, del laboratorio di Hong Yun Song, che non sapete chi è, ma non importa, è uno scienziato. Tutte queste cose sono state fatte da qualcuno, d'accordo? C'è qualche scienziato che magari sarete voi un giorno. È andato in stabulario, ha dato il tamoxifen a questi topi ed ecco che nell'ippocampo è riuscito in effetti a marcare alcune di queste cellule. Questi sono due giorni dopo il tamoxifen. Due giorni dopo il tamoxifen, scusate questa volta ha usato la GFP che è un po' più comoda, quindi una proteina fluorescente come reporter, quindi c'era nel sito, nel locus rosa 26 la proteina GFP con lo stop codon. Do il farmaco, la creva al nucleo, toglie lo stop codon, parte la GFP. Vado a vedere due giorni dopo in una sezione, guarda che bella, quella è una, intorno ce ne sarebbero altre che non hanno ricombinato, ne abbiamo dato poco apposta. Qui vediamo una cellula bellissima, questa è un putative stem cell, una cellula staminale putativa, si pensava potesse essere stem cell, ma vediamo allora che cosa sai fare, ti abbiamo mutato, vediamo se sai trabandare la tua mutazione e minchia sì, potremmo dire, perché se andiamo a vedere qualche tempo dopo, due mesi dopo, ecco che, chiaramente non è più la stessa, però là dove a due giorni vedevamo solo queste cellule, adesso invece troviamo dei gruppetti e in mezzo a questi gruppetti di cellule ci sono dei neuroni, dei maledetti neuroni, la neurogenesi, ma fatemi comprare delle canne, allora erano tutte balle, adesso mi riempio di canne, no, no, attenzione, sono pochi neuroni, forse nell'uomo no comunque, volevo dirvelo, questo è nel topo, nell'uomo si pensa che no. Ok, però la scoperta è, fatta grazie a questa capacità di indurre la mutazione condizionale in modo inducibile, ci siamo tutti su questo? Conditional e inducible, inducible, conditional mutagenesis. Voilà, e in realtà di recente è stato possibile anche a questo punto non fare degli snapshot presi qua e là, no, devo prendere un animale, vedo quella cellula, poi però chiaramente l'animale è morto, quindi quella cellula è morta e non può ereditare nessun male, devo prendere un altro topo che faccio vivere più a lungo per vedere di seguire il lineage più a lungo, in realtà si può anche fare di provare a fare un video, a questo punto un film, lo sviluppo avviene nel tempo e quindi con un microscopio molto particolare, aprendo delle finestre sopra al cranio, sapete il cranio di solito è fatto di osso, giusto? Ecco però lo ziobiologo sa un attimo modificare la storia e farlo di vetro e quindi tolgono l'osso, mettono una finestra con anche delle tapparelle che non si, in vasi di fiori c'è tutto e mettiamo questa finestra che si può aprire e ci si mette sopra un microscopio, un microscopio a due fotoni particolare per andare in profondità. Ok, a questo punto sempre seguendo in questo caso è un altro promotore, si usa Gli-1, non vi preoccupate, nel senso la nestina marca tutte queste cellule, queste cellule staminali però non si dividono mai, se ne divide una ogni mille anni, invece questo Gli-1 che è a valle della via di Sonic Edge, che forse non avete ancora fatto ma la faremo insieme, non vi preoccupate, invece becca delle cellule già un po' più pronte ad attivarsi, quando la cellula sta per figliare, che va al reparto maternità, inizia a esprimere degli altri geni e Gli-1 è uno di questi, così le becchiamo senza dover, visto che è faticosa questa procedura, becchiamo delle cellule che stanno già per attivarsi. Ok, ed ecco il video, questo fatto nel laboratorio di Jess Berger, ok, allora aspettate, qui secondo solo perché in effetti è più complicato, ve lo faccio vedere così, allora qui lo stiamo vedendo dall'alto, quindi questo è uno Z-Stack, voi non riuscite a capire esattamente che cosa c'è, qui sono sezioni ottiche, partiamo dall'alto e vediamo tante piccole sezioni ottiche di quell'albero che abbiamo visto, quindi in ogni sezione vedremo solo dei puntini, ma fidatevi se avete l'occhio, io nella vita che faccio queste cose, io la vedo la cellula, tipo Matrix, comunque io la vedo, voi magari no, ma io la vedo, qui c'è una cellula della glia-radiale, questa cosa qua, in uno Z-Stack. Adesso poi cosa facciamo? Attenzione, ecco, questa invece è la proiezione Z, questo è tutto il volume, però lo stiamo guardando dall'alto, d'accordo? Quindi quell'albero che vedevate prima così, se lo guardate dall'alto adesso è fatto così, d'accordo? Semplicemente visto dall'alto. Qui siamo a 7 giorni d'altamoxitin, 7 days post injection, 7 DPI, days post injection. Andiamo a vedere, 7, 9, 10, ecco che c'è un primo round 12-13, c'è un primo round di neurogenesi, questa cellula ha figliato, ha fatto tutti insieme 4-5 cellule che hanno iniziato il differenziamento, questi si scoprirà dopo in realtà, quando poi l'animale viene sacrificato, sono neuroni, però già un po' si vede dalla morfologia se c'è l'occhio bla bla, ha figliato, ok? E l'ho visto, e ho visto dove sono andati i suoi figli, adesso la faccenda è, ma dopo che ha figliato si è persa? Cioè è rotolata giù dal pendio di Waddington o è rimasta lì? In realtà è rimasta lì, quindi c'è qualcosa che l'ha trattenuta, ha dato origine a delle figlie che sono rotolate giù dal pendio, ma lei è rimasta lì. Ci sarà poi un secondo giro di neurogenesi, pronti? 20-27, secondo giro a un certo punto, 20 giorni dopo, si divide di nuovo e dà origine, vedete i suoi figli sono di nuovo ed ecco qua, dà origine ad una serie di altre cose, in questo secondo giro invece si è persa, non c'è più, ok? Quindi è rotolata via anche lei, tra le divisioni cellulari si è differenziata anche lei. Capite che però appunto a questo punto la tecnica è molto potente, d'accordo? Noi possiamo marcare una cellula in modo specifico quando lo diciamo noi e magari seguirla anche lungo il video per vedere se si mantiene o se si perde, quanti figli fa, ogni quanto si divide e cose di questo tipo. Ok, in realtà chiaramente l'idea sarebbe cacchio figata, ma non si può fare con tutte le cellule? Possiamo seguire tutte le cellule una per una e non perderce neanche una, vederle tutte dove vanno a finire? Allora questa cosa è molto più complicata perché non so se ci avete fatto caso guardandomi, io non sono trasparente, è vero? Sì, ne di profilo, da dietro, sono trasparente qui un po' di più, ma ecco non sono proprio tanto trasparente, non lo siete neanche voi, non lo sono neanche gli embrioni, con la luce è proprio, la luce non è il mezzo giusto, c'è un fattore fisico che si chiama scattering, sapete cos'è lo scattering? Noi saremmo anche le nostre molecole biologiche qua di cui siamo fatti, le nostre proteine non assorbono un granché il visibile, la luce visibile non viene assorbita un granché dalle proteine, ma qual è il problema? È che scatterà la luce, comunque le colpisce e devia e questa deviazione continua, crea questa nuvola e siamo noi e quindi noi siamo colorati per quello, non siamo trasparenti, poi chiaramente l'osso è duro e lì non si andava comunque. Allora, però negli embrioni quando le cellule sono ancora poche, le cellule sono trasparenti, le singole cellule sono trasparenti e se facciamo dei mucchietti non troppo grandi, quindi quando non c'è ancora tanto grasso, perché i lipidi fanno proprio scattering più di tutti, sono il peggio per lo scattering e le lipide, allora si può avere delle strutture sufficientemente trasparenti, i primi stadi di sviluppo tipicamente sono abbastanza trasparenti, specialmente in alcune specie. Allora a questo punto si può immaginare, è stato immaginato un microscopio che potesse fare l'imaging molto molto veloce, perché allora se sapete come funziona un confocale? No, quello che vi ho fatto vedere prima, il microscopio 2 fotoni o il confocale, di fatto fanno una specie di scansione punto punto, mandano il laser, mando il laser in quel punto, in quel punto si eccita la molecola fluorescente che mi risponde sono qui, un altro punto sono qui, un altro punto sono qui e noi ricostruiamo l'immagine facendo un botto di puntini e questo prende un sacco di tempo per quanto siamo veloci a lanciare questi puntini. Allora l'idea che è stata ormai già da un po' di anni, è abbastanza vecchia tra virgolette, però è adesso che si sta sfruttando al meglio secondo me, è quella di utilizzare invece dei piani di luce, siete mai stati in discoteca dove fanno quei piani di luce quando vado? Quando ero giovane io c'erano comunque, va bene, forse un po' che non vado più, non si fanno più, era bellissimo. Comunque avere un piano di luce che ecciti tutte le molecole fluorescenti di uno strato del mio campione ed è quello che state vedendo qua, quindi trasmettiamo un piano di luce e facciamo una sezione ottica dell'animale e facciamo la foto da sopra, piano ottico, a questo punto io posso smitragliare piani ottici, di cui cambia lo z a diversi livelli e riprendere con la stessa velocità, con una fotocamera, tutte queste immagini, in questo modo in effetti si possono seguire anche processi molto veloci, si possono raggiungere grandi velocità. Allora con questo sistema e magari usando anche delle ricostruzioni topografiche, sono stati ricostruiti, è stato ricostruito lo sviluppo di una serie di specie, inizialmente la drosofila, la prima su cui è stata utilizzata è la drosofila, qui vedete una drosofila con una marcatura fluorescente nucleare, sono degli istoni fluorescenti, l'istone con la coda GFI, quindi diventa un istone fluorescente e seguiamo il nucleo. Chiaramente la drosofila già è troppo grossa, l'uovo di drosofila e quindi per esempio qui è stato rappresentato, è stato preso da 4 angoli, quindi c'era un microscopio che prendeva in una direzione, un microscopio che si chiama ricostruzione topografica, vabbè comunque c'erano 4 angoli e poi volendo, adesso qui ve li faccio vedere separatamente, ma esiste la versione fusa insieme. E quindi ecco che possiamo seguire lo sviluppo, chiaramente ognuna di quelle celluline con pazienza potremmo cercare di seguirla, perché la vediamo, era lì, poi si è divisa, vediamo dove è andata la figlia, nel momento in cui abbiamo un film di tutte le cellule in 3D, tridimensionale, potremmo seguirle, è chiaro che non saremo mai così sadici da chiedere a un povero studente di fare questo lavoro, allora adesso mettiti lì e segui il lineaggio di tutte le cellule, questo dopo 2 anni, no dopo 4 anni ti finisci il dottorato e non hai ancora finito il primo embrione, è una pazzia, ma infatti per fortuna abbiamo degli studenti informatici, l'intelligenza artificiale, avete Snapchat, vi vede le facce, figurate se non si vedono le cellule, esistono gli Snapchat per le cellule, quindi possiamo segmentare automaticamente le cellule e costruire degli alberi genealogici, seguire il lineaggio in grandissimo dettaglio, non sappiamo ancora però chiaramente, qui siamo super dettagliati, ti posso dire ogni cellula qual è la sequenza di divisione che l'ha portata da dove è partita a dove è arrivata, chiaramente non so, e di questo ci occuperemo nel nostro corso, non so quando ha deciso di andare a finire lì, che cosa l'ha indotta a finire lì, ok? Qual è il programma genetico? Però il fate mapping, che si faceva già 100 anni fa, adesso noi lo possiamo fare con una precisione strabiliante e infatti ma sì dai, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, quindi direi di finire puramente in modo cinematografico, facendovi vedere qualche immagine suggestiva, cosa ho spento? No, no, ma perché? Perché faccio questo? Vi ho spento le luci sì, siete pronti? Non limonate per favore, guardate, popcorn, patatine? Allora vi faccio vedere qualche video, dai, un po' carino, questi ci hanno già 10 anni, non era Amazon, che volevo farvi vedere? Va bene, ok, questo che vedete adesso, poi vi faccio vedere anche la parte segmentata, è un embrione di zebrafish, sempre con questo istone, eh? Come no? Maledetto! Fatemi riflettere, cosa devo fare per convincerlo a connettersi? Fatemi un attimo, perché non so se è il mio computer, tu muori, eccolo! Allora, eccolo qua, scusate, voilà! Allora questo, sempre fatto con il light sheet, in realtà ne vediamo solo una parte, poi sappiate che è stato fatto in 3D, no? Quindi esiste tridimensionale, però poi comunque l'oggetto tridimensionale è faticoso da vedere, un computer non ha problemi, ma noi abbiamo comunque bisogno di capire la profondità, una serie di elementi. Allora, questo è il lato animale, dove ci sono tutte le cellule, l'altra parte, no? Comincia tutto in questa parte animale, lo sviluppo, l'altra parte è la parte vegetativa. Man mano che va avanti lo sviluppo, adesso vedrete, l'ectoderma cresce, perché dovrà avvolgere ovviamente l'intero embrione. Quindi questa parte di ectoderma, adesso qui lo vediamo all'orizzonte, le prime cellule che si affacciano e poi che crescono. Vai! Ci vorrebbe una musica qui? Quindi vedete come si dividono? Si dividono tantissimo e poi non si capisce più niente, ecco che stanno arrivando l'invasione, oddio! È figo però! Queste sono cellule che migrano, ma di chi sono figlie? Dov'è il loro lineage? Quando hanno deciso di essere quello che sono? Ed ecco che alcune, qui di nuovo si forma il tubo neurale, sapete si forma in modo diverso, qui si sta formando questo tubo neurale e per lo zebrafish di fatto noi ormai riusciamo a seguire lo sviluppo intero, dalla singola cellula all'animale formato e conosciamo tutte le cellule. Chiaramente cosa si può aggiungere? Noi possiamo aggiungere a questo schema, a questo video, possiamo aggiungere una mutagenesi condizionale o vedere con un transgenico quando viene acceso un certo gene. Dove? Da chi? Ok, aspettate sì, questo era un altro di quelli che volevo farvi vedere, ma arriviamo? Mentre, uffa, ci arrivo, ci arrivo. Ok, e in quest'altro video che vi faccio vedere, in realtà la segmentazione è della stessa cosa, quindi visto dall'occhio di un computer che ha segmentato le cellule e di queste cellule ci può dire la velocità, come si stava dividendo, di chi è fratello, di chi è sorella, quando si sono divisi l'ultima volta, se si sono baciati, sono solo baciati, si sono scambiati indirizzi, ogni piccolo microscopico dettaglio. Quello che chiaramente non sappiamo però è quello che sta succedendo dentro la cellula. Quindi qui possiamo vedere, a un certo punto tu dici, ok, questo alla fine vedo che è diventato un neurone, qual è la sua storia? E ti posso tornare indietro a vedere dove era la cellula che ha dato origine a quel neurone. Qui si sta formando il tessuto nervoso, vedete? Tutti questi colori chiaramente li ha inseriti il computer. Qui non c'entra niente, allora. E datemi ancora un attimo, questo è anche molto suggestivo, si può fare anche con stadi più avanzati dello sviluppo, non così avanzati. Pensavo a qualcosa di più immaturo, ok. Qui per esempio vedete lo sviluppo dello zebrafish visto con una mutazione condizionale, no in realtà non è una mutazione condizionale scusate, qui è stato inserito un colorante per farci vedere i vasi sanguigni. Quindi vedrete in blu tutte le cellule, le singole cellule, ma in più questa volta ha due colori, non vediamo solo più i nuclei, ma vediamo anche un tipo cellulare particolare e lo vediamo tutto, vediamo il suo citoplasma, non solo i nuclei come era prima, questa volta vediamo proprio com'è fatta la cellula. E questa cosa è stata fatta con i vasi sanguigni, questo è molto bello, secondo me. se ci arriviamo, ci arriviamo, no? Ah no, per farvi leggere, ok. Sì va bene, dai lo spiego io. Eccolo qua. Ok, quindi qui comincia da un po' più avanti, però vedete in blu tutte le cellule e in bianco abbiamo usato le cellule di quella particolare linea cellulare, quindi abbiamo usato un gene che era espresso solo in quelle cellule, questo non è Crelox, d'accordo? Qui è direttamente un transgenico in cui abbiamo preso le sequenze che regolavano, non so più se il VGF, comunque un gene che è espresso solo dalla linea, dalle cellule che diventeranno parte della linea dei vasi sanguigni e al posto del gene vero abbiamo messo la GFP, qui stiamo vedendo in bianco. Quindi tutte le cellule che hanno fatto quella scelta differenziativa, dal momento in cui l'hanno fatta, iniziano a esprimere, iniziano a diventare colorate. Ed è per questo che il nostro video comincia quando queste cellule hanno fatto la loro… e voilà! Quindi lì vedete dove si formerà il cuore, c'è molto fermento nella zona in cui si formerà il cuore, guardate anche come si svuotano le riserve di cibo e vengono distribuite tra tutte le cellule. Chiaramente questi vasi si formano, quindi ci sono alcune cellule singole che inizialmente colonizzano dei territori e poi si cavitano a formare i capillari e poi si dividono. Quindi c'è la formazione del sistema circolatorio, bisogna partire da cellule singole che a un certo punto si mettano d'accordo a creare un sistema di tubi chiuso che abbraccia l'intero embrione e sanno dove andare, sanno quanto dividersi. Voilà! E poi vabbè, poi alla fine in realtà passa il singolo colore, ci fa anche vedere… vabbè, ma poi ve lo guardate e poi questa è la… però la figata è che lo facciamo sull'animale vivo, lo seguiamo, qui abbiamo visto un gene che si accendeva, però è già qualcosa, ok? L'ho visto l'accensione di un gene, possiamo non lo so, introdurre una mutazione e vedere cosa cambia all'accensione di quel gene, per esempio, o al posto o al modo in cui si spostano le cellule. Ok, qui ve ne ho lasciato poi qualcun altro, di questi video in realtà poi è solo proprio una questione di sviluppo tecnologico, quindi oramai siamo molto bravi a segmentare le cellule, seguire le mutuitosi, quello che volete e qualche anno fa, vi ho messo lì il video così se volete lo potete guardare, è stato sviluppato un super mega microscopio ancora più faigo di quelli che c'erano prima, sempre da Philip Keller che è il leader di queste tecniche, il più grande scienziato in questo ambito al momento, comunque con questo fantastico super mega microscopio inserito in una cameretta riscaldata, abbiamo seguito anche le prime fasi dello sviluppo del topo, beh è bello il topo, perché comunque non so perché, piacciono i topi, piacciono tanto, vanno fortissimo e quindi questo diciamo è dove siamo arrivati adesso, poi qualcuno vorrà provare a fare l'uomo, ci sono problemi etici, ne parleremo un'altra volta. Ok, però allora, insomma in realtà in quest'ultima lezione interlocutoria, perché da domani invece cominceremo a parlare di stem cells, ci arriviamo lo sviluppo, però domani cominciamo a parlare di stem cells, appunto però volevo un pochino darvi il quadro generale, sia concettuale che in una certa misura tecnico, in realtà di tecniche ne vedremo ancora, ne vedremo molte altre, però chiaramente occhio perché ne vedremo di tecniche, il dato sperimentale ci interessa, no? Siamo degli scienziati o no? Chi di voi non è uno scienziato? Qui siamo a scuola di scienziati, capito? Poi farei qualcos'altro, però la prospettiva, il modo in cui guardiamo la natura è questa, non le storie che ci raccontano, noi sappiamo da dove derivano, abbiamo il contatto col dato sperimentale, perché la scienza è fatta di dati sperimentali e chi se non noi deve avere il contatto diretto con questo dato sperimentale, d'accordo? Quindi ci vediamo domani per un sacco di bei dati sperimentali.